è l'anarchico Alfredo Cospito, la parlamentare Deborah Serracchiani, il parlamentare Giovanni Donzelli, il ministro di giustizia Carlo Nordio, cose brutte cari amici, cose brutte, ormai lo conoscete tutti, il caso dell'anarchico Alfredo Cospito, è una questione molto molto intricata che tocca sia la nostra legislazione che tocca pure i nostri sentimenti, una questione ripeto molto intricata che riguarda l'articolo 41 bis, riguarda l'anarchico Alfredo Cospito che sta digiunando da mi pare oltre 60 giorni ed è calato mi pare di una quarantina di chili mi pare e potrebbe morire, è già stato evidenziato che potrebbe diventare un martire, però io mi soffermo su una questione che riguarda la parlamentare del PD Deborah Serracchiani e il parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli perché relativamente al caso dell'anarchico Alfredo Cospito che è incarcerato secondo le norme dell'articolo 41 bis, Deborah Serracchiani è intervenuta per dire che insomma si dovrebbe trovare una soluzione diciamo così umana, anche perché pare che l'articolo 41 bis non sia una norma costituzionale, sembra che sia una norma che va a violare qualche altra norma costituzionale, ma a parte queste questioni giuridiche, allora la parlamentare del PD Deborah Serracchiani dice che insomma si dovrebbe intervenire in maniera diciamo così umanitaria perché siamo di fronte a un detenuto, articolo 41 bis, detenuto però che sta scioperando da oltre 60 giorni è calato 40 kg, cioè non è che uno si mette a fare lo sciopero della fame per divertimento, non è un divertimento per nessuno. Allora il Parlamento sarebbe intervenuto il parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli dicendo che Deborah Serracchiani assieme ad altri parlamentari avrebbe fatto visita dei carcerati tra cui il carcerato Alfredo Cospito e Serracchiani avrebbe incoraggiato in questi colloqui dentro il carcere, avrebbe incoraggiato l'anarchico Alfredo Cospito ad andare avanti nella sua lotta, allora Deborah Serracchiani ha replicato che lei non ha incoraggiato nessuno, lei ha fatto soltanto una visita umanitaria che intende denunciare, Deborah Serracchiani intende denunciare il parlamentare Giovanni Donzelli per le parole che ha detto, è intervenuto anche il ministro Carlo Nordio evidenziando che tutti i parlamentari hanno il diritto di visitare i carcerati, specialmente se si tratta di carcerati secondo le norme dell'articolo 41 bis. Io qua mi fermo, la notizia l'ho letta su un giornale e la notizia ve la metto come link nell'assunto di questo video come sono solito fare affinché voi possiate e confrontare quello che io sto dicendo con quanto scritto nell'articolo che io sto commentando. Quali conclusioni? Ho sentito dire che sarebbe impossibile svolgere un'azione umanitaria nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito perché allora anche altri detenuti all'articolo 41 bis farebbero la stessa cosa, cioè tutti quelli che sono carcerati secondo le norme dell'articolo 41 bis che sono veramente duttetibili e si metterebbero a fare la stessa cosa, ma no come si fa come si fa a fare una tale osservazione? Ma come si fa? Alfredo Cospito, ripeto, sono circa due mesi che è in sciopero della fame, mi hanno detto che è carato di 40 kg, sembra che sia arrivato alla fine della sua esistenza e mica tutti sono disposti a compiere un'operazione di questo tipo, mica tutti. Non è che se l'anarchico Alfredo Cospito dopo un tale sciopero della fame venisse messo in un cacere non più all'articolo 41 bis, non è detto che tutti gli altri detenuti all'articolo 41 bis si mettono a fare come l'anarchico Alfredo Cospito perché ci vuole una bella determinazione a scioperare, ripeto, per circa due mesi, calare 40 kg e arrivare quasi alla morte, ci vuole una bella determinazione, ci vuole una bella determinazione, quindi è un argomento che non vale, cioè se a seguito di questa sua protesta, protesta dolorosissima e all'anarchico Alfredo Cospito venisse concesso di uscire dalla detenzione articolo 41 bis, di essere detenuto in maniera normale, non è che tutti gli altri detenuti dell'articolo 41 bis si metterebbero a fare ciò che ha fatto l'anarchico, ciò che sta facendo l'anarchico al freddo cospito, ripeto, ci vuole una determinazione d'acciaio per fare uno sciopero della fame che ti porta vicino in prossimità della morte. Io qua mi fermo cari amici, qua mi fermo, cosa vi devo dire, cosa vi devo dire, cosa vi devo dire, siamo tralincudi nel martello, siamo tralincudi nel martello, ricordo qua il caso di Aldo Moro, Aldo Moro, Aldo Moro, a che cosa servì la durezza dello Stato? A che cosa servì la durezza dello Stato? e allora ci fu la durezza non solo della democrazia cristiana ma anche del partito comunista, eh? anche del partito comunista. A che cosa servì la durezza? A che cosa servì la durezza? Aldo Moro fu ucciso perché lo Stato vuole mantenere la linea della fermezza e dopo che Aldo Moro fu ucciso non è che il terrorismo si fermò, continuo ancora per vari anni, eh? Vabbè qua mi fermo, io ho fatto le mie considerazioni, va bene? Ed ora voi fate le vostre considerazioni. Vi ricordo che io sono questo signore qua, vedete? Mi chiamo Serafino Massoni, sono nato nella prima decade del febbraio 1940 per cui presto, presto proprio, fra pochi giorni, eh? E compio i miei bravi 83 anni. Eccomi qua, eccomi qua. Bene cari amici, cosa volete che vi dica? Termino mostrandovi la mia ultima opera, un romanzo storico, La Cometa dell'Imperatore, ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C. ai tempi del grande imperatore Federico II di Sveria, che fu imperatore del Sacro Impero Romano Germanico. Ok, a tutti, tanti cari saluti da La Cometa dell'Imperatore.